Si perde sul Morrone, viene soccorso dei carabinieri forestali e è accaduto nei giorni scorsi quando una pattuglia della stazione i carabinieri forestali di Sulmona, allertata dalla centrale operativa del 112, è intervenuta nelle ricerche di un giovane escursionista originario di Ortona che risultava disperso sul monte Morrone. I militari, dopo aver raggiunto la località Badia nei pressi della chiesa Santa Maria della Pace, hanno proceduto lungo un sentiero di montagna in direzione dell'eremo di San Pietro e dopo circa un'ora si sono diretti verso il punto GPS a circa 1.100 metri di quota, già comunicato la centrale operativa da ragazzo in difficoltà. I militari hanno quindi trovato l'escursionista AMP di 22 anni, fortunatamente in buone condizioni fisiche e lo hanno condotto al punto di partenza del sentiero, successivamente lo hanno raccompagnato presso il proprio domicilio a Sulmona.